In Germania trovare un alloggio è sempre più complicato. Il governo ha convocato i leader del settore e altri esperti per un vertice speciale. L'impenata dei tassi di interesse, che rende sempre più difficile accedere al credito, è solo uno dei tanti problemi. I prezzi dei materiali da costruzione alle stelle e la mancanza di manodopera acquiscono le difficoltà affrontate dal settore. Il governo del cancelliere Olaf Scholz ha promesso nuovi aiuti per assistere le famiglie nell'acquisto di case e per incentivare le imprese a costruire residenze per studenti e apprendisti. L'obiettivo è costruire 400.000 nuovi alloggi ogni anno, un'ambizione sproporzionata secondo molti.